... ... ... Lorenzo, lo aiutante da prima! Più vita! Più vita! L'accomitisciolo di nuovo per sicurazione, no! Pensa il favore, la ultima l'uomo! Quei ci voleva il russo! Pazzo, coraggioso! Per Maury, Maury dentro! Lulic, Lulic, Lulic! Si porta il pallone! E lo mette alle spalle di Pepe Reina, se le portate di una zona di campo difficile. Perde la marcatura. Vai! 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 Vai qua! la 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 Giorginio di prima, Giorgio, ancora Iguain, c'è Lorenzo, Giorginio di prima, Giorgio, ancora Iguain, c'è Lorenzo, Giorgio, ancora Iguain, c'è Lorenzo, ancora Iguain, c'è Lorenzo, che godio fattomico! Punto 45 di Scoccafe, mamma mia, mamma mia, qua c'è bisogno del rosso, qua c'è bisogno del rosso, qua c'è bisogno del rosso! Ciao, ma tu si è avuto! Ha calciato fuori a tutti e due, tutti e due, vediamo questo è Mertens, spinto al rosso, a dire a capo posto, a dire a capo posto, Come è andato il primo tempo? Per me è male, cioè ero molto male, fa malissimo un po' per le cariche. Speriamo di vincere, stiamo giocando bene, stiamo giocando bene. L'altro è che chiedeva un po' di vincere, deve fare un po' suzio di vincere. Il migliore è che è stato. Per te, anche se sei poco presente, però per l'azione che ha fatto, ha dimostrato di essere un uomo per tutti. La vostra passione è l'azienda. La vostra passione è l'azienda. Pimpita contro Beriscia. Eccolo qua, Pimpita, pronto? Fate la ricorsa, ecco Pimpita! Pimpita contro Beriscia. e poi Pino Spinato mancava fino no non è finalizzata c'è la banda finalizzata è già volo si è libero e poi invece per Insigne che allunga suo Pibita 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 In ultimi 60 secondi, in ultimo minuto di gioco, e può partire il conto alla rovescia per accompagnare il Napoli a questa importantissima... Il territorio e la città è un'altra, ma si è un'altra, ma si è un'altra, ma si è un'altra... Carlo, noi ti salutiamo da Maria. Ciao Carlo, a presto!